se mi vedete così è perché fa caldo, fa molto caldo oggi Monza 0-1 Lazio, la Lazio di cortomuso, visto che si sono dite in questi ultimi anni porta a casa 3 punti fondamentali per la Champions League contro un Monza che c'è da fare di onore perché ha provato a mettere in difficoltà la Lazio, ha creato e non ha creato, vissà che in qualche occasione l'ha creata ma non tantissimo, però comunque onore a Monza che in casa sua ha provato a fare il possibile ha provato a mettere in difficoltà la Lazio, ma alla fine la Lazio, soffrendo un po' ma giocando anche bene si porta a casa, 3 punti importantissimi per la zona UEFA Champions League e andiamo a commentarla, allora comunque se mi vedete così è perché fa caldo, oggi ci sono una varia di gravi comunque allora nel primo tempo, nel secondo tempo ho visto una bella partita ho visto una bella partita, ho visto due squadre che giocano a calcio ho visto due squadre che giocano a calcio ho visto due squadre molto propositive in avanti nei primi 25 minuti, è come un po' la partita dell'interventina nei primi 25-30 minuti, niente di che sono due squadre che si studiano nei primi 25-30 minuti del primo tempo due squadre che si studiano due squadre che si studiano e poi da lì iniziano a farsi vedere nelle aree avversarie nelle aree avversarie però la razza in una delle poche occasioni nitide che ha creato nel primo tempo al tredicesimo la sblocca con un assisto, con una vista meravigliosa di Zaccagni che vede Pedro dall'altra parte che si libera di un avversario tira un missile imprendibile per poterire il Monza la Corino va su destra 1-0 poi ripeto, nel primo tempo non è che c'erano tante azioni il Monza non è che ha creato tantissimo nel secondo tempo invece c'è qualcosa in più invece qualcosa in più comunque la razza nel secondo tempo ha creato e manca il Monza ha provato a fare qualcosa ma alla fine finisce così finisce così ed è un risultato giusto perché comunque la razza ha meritato questa vittoria però ha un pochino di sofferenza perché comunque giocare col Monza non è mai facile giocare con il Monza non è mai facile quindi un pochino di sofferenza ma alla fine è una partita meritata e si portano a casa 3 punti importantissimi per la UEFA Champions League 3 punti che valgono loro e quindi approfitta la sconfitta dell'Inter la razza approfitta della sconfitta dell'Inter di ieri per andare a più 5 su di loro 5 su di loro comunque è un vantaggio sostanzioso e a più 7 dall'Atalanta quinta quindi già bei vantaggi bei vantaggi che consentirebbero a questa Lazio e se finissero il campionato sarebbe meritatissimo sarebbe meritatissimo la Champions League se finissero il campionato in Champions poi per me dovremmo vedere però comunque da Donalazzi zitta zitta è seconda a 5.5 punti a più 5 sull'Inter a più 7 su Milan e Atalanta in attesa che giochi anche la Roma alle 18 comunque vittoria meritata ma con un po' di sofferenza ecco l'ho detto comunque da un caldo incredibile qui dà la verità è tutto vittoria meritata della Lazio la decide Pedro ma onore al Monza onore al Monza che comunque ha provato a mettere in difficoltà il bianco celeste inizia la domenica di Siria con una vittoria stra importante di cortomuso della Lazio in zona Champions League bella ci becchiamo dopo ciao a you ciao